xgo 28 plus 2021 vedete famosissimo bellissimo comodissimo xgo 28 plus 2021 hanno cambiato le finestre hanno cambiato gli adesivi le chiusure dei gavoni del garage fanali posteriori vedete xgo dynamic camper house di rimini perché camper house è solo xgo grande garage per scooter con due aperture attacco riscaldamento bocchetta aria luce passaggio interno xgo 28 plus nuovi e fine noleggio da camper house di rimini hanno cambiato le finestre vedete solita meccanica potentissime fiat 2.340 cavalli in particolare questo modello che sto riprendendo è un 140 cavalli gomme da 15 porta bombole porta con zanzariera d'ingresso il solito salottino con il nuovo tavolo con la telescopica xgo 28 plus a rimini camper house di rimini camper house alle di camper house vi aspetta anche nelle dirette del sabato alle 14 per far vedere tutte le ultime novità questo è il blocco cucina con tre fuochi oppala accensione piso frigo grande vedete sportello per il forno se uno vuole mettere il forno il belletto grande posteriore tutti i ripostiti che potete mettere i ripiani nuovi oscuranti e zanzariere mobiglio da camper di livello alto box doccia con porta rigida oscurante zanzariere anche alla porta del bagno alla finestra del bagno chiedo scusa se vado troppo veloce venite a trovarci a rimini alla camper house di rimini letto basculante elettrico e scende fino dove vedete che arriva la guida la arriva fino quindi il tavolo rimane libero e la porta di conseguenza quando scende il letto rimane libera vedete rimane libera quindi camper house di rimini xgo 28 plus perché xgo è un camper che vale e vale 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 è camper house di rimini e xgo rimor vi aspettano a rimini 0 5 4 1 39 20 31 ciao